Amici di giornali.sm, siamo qui oggi con Paolo De Biagi. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Paolo, come mai ci hai chiamato? Come mai? Per fare alcune esternazioni su quello che sta succedendo ultimamente in Repubblica. Tutti questi discorsi dei debiti monofase, ma io dico, uno Stato se deve rispuotere dei soldi lo deve fare in tempi brevi, non dopo vent'anni. E le persone che in questo momento stanno protestando hanno pienamente ragione, perché qui non sono evasori queste persone. Da quello che hanno detto non sarebbero evasori e quindi è ora di finirla. E un'altra cosa, caro Arzelli, perché non rispondi alle dieci domande del signor Severini, giornale.sm? È ora di finirla, rispondete perché la gente si sta stancando. Bene, quindi Arzelli e su Pasquale Valentini ci vuole dire qualcosa? Pasquale Valentini viaggia dalla mattina alla sera, buon viaggio e buone ferie, visto che a San Marino non succede niente. Allora qui lo salutiamo? Lo salutiamo, certo. E in più voglio sapere ancora del mio esposto, perché qui c'è sotto qualcosa. Il Tribunale ancora non ha fatto saper niente? Niente, è una vergogna. Va bene, salutiamo anche quindi il Tribunale. Salutiamo anche loro, buone ferie a tutti. E Banca Centrale? Banca Centrale, andranno tutti a casa, vero Felici? Ma l'avevi detto, punto. Cosa, 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 cosa vuoi dire? Lo rideremo la prossima volta. Va bene, la salutiamo. La salute a tutti. Buongiorno. Arrivederci. Grazie. Grazie.